face all'anima sua, parlava un p***o il Papa Voitiva quando stava male e visto che parlava tutto questo è uguale parlava allora ci fa, vedevo il chiamato il t***o ma che c***o sta dicendo questo? ma eri a parte? si 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 a parte vabbè entriamo in questo taxi e ci andavamo a accompagnare in centro questo ci diceva delle cose e noi non capivamo non capivamo, non capivamo a mio amico si poi gli abbiamo chiesto ah scusate ci potete portare una pizzeria o un ristorante a Parma nel centro, ci potete consigliare un ristorante una pizzeria si allora allora vi porto in una via vicino il ristorante si dice ma guarda che non c'aveva problemi veramente così ma vuoi la palla? se poi tu nel centro di Parma hanno la r così come Genegnocchi hai mai sentito? Genegnocchi è di Fidenza che non è Parma però comunque Fidenza salso maggiore lo fanno le miss e Parma sono i tre posti della provincia dove c'hanno questa parlata così quindi se tu vai a Parma e chiedi una cosa si allora dunque prendi la strada vai a destra poi ti trovi il semaforo continui e arrivi fino al posto dove devi andare allora parlano tutti così signore stiamo cercando un ristorante e non so dove ci aveva portato questo qua poi che la camminavano tutti con la bicicletta le macchine non esiste tutti in bicicletta e per me diceva io ti compravi la bicicletta? per volte c'è un casino hanno voluto la bici a Parma e ora pedalano è bella questa battuta allora hai preso a Zeric ma nell'Emilia c'hanno tutti la bici anche Reggio ce n'hanno un sacco vedevi tutti questi signori per bene con la giacca con la cravatta di bicicletta no ma Parma si vive la è proprio sì 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 la ma tutti hanno la bicicletta Parma, Reggio Reggio già meno Modena è un'abitudine ormai proprio è una bici sono in quelle zone Bologna si usa ancora la bicicletta di meno però no a Parma sì si usa abbastanza in centro Reggio Emilia anche un sacco con tutti gli autobus si usa la bicicletta sì basta me lo scocciamo con tutti gli autobus così però se tu proprio vai nel centro è che a Reggio Emilia ad esempio aprono di più le vocali a Reggio a Reggio Emilia a Reggio Emilia riesce a capire di più invece a Parma chiudono io sono di Parma mi chiamo Francesco faccio l'università tutti così chiusissimi è quello il ricordo di Parma mi ricordo che facciamo un caldo stai zitto nano facciamo un caldo da morire e quando sono andata a mangiare al ristorante mi sono mangiato quello me lo ricordo no hai lasciatelo un broccolo di numero mangia te lo scusa No, non mi piace tanto. Pensa ai bambini che vogliono. Sai che c'è il dolce? Sì, non l'ho visto. No, figurati. Ma Alice, ma ci credi? Mi ricordo di Parma che facevo un caldo incredibile. E poi mi sono andata a mangiare, la sera sono andata a mangiare il prosciutto crudo che era buonissimo. Con il parmigiano reggiano, che era buonissimo. Lo profiterol! Infatti ce ne hai dato 4. Oh, per me! Per me è sticcavo, lo mangio io. Mi è piaciuto buonissimo, poi che mi sono mangiato i tortellini. I tortelli? Che erano una specialità del posto. Di zucca? O ci sono di patate o di... Non lo so, ma ho portato i tortelli che tra l'altro mi ricordo benissimo che l'ho pagato un sacco di soldi ed erano 4 tortellini contati. È vero, li te ne hanno sempre un sacco pochi. Quattro proprio. A me quelli di patate non mi piacciono tanto. Mi piacciono quelli... Invece a Bologna? A me mi fai nervosi Alice. Sbucci le cose e poi le lasci là. Ci sono anche quelli di zucca. A Bologna invece sono stato... Non me lo mando. Quest'anno sono stato a febbraio... No, l'anno scorso. Mi è passato un anno e non me ne sono accorto. Bravo! Sono andato l'anno scorso a febbraio con mia cucina e mi ha portato una specie di... Ragazzi si chiama... Quei passi dove fanno l'aperitino. Mi sono mangiato tipo... Portavano un piatto così... Con prosciutto, mortadella... Che schifo! Oh Madonna! Sai cosa? Mi fa proprio... Io non sopporto i... I ciccioli. Vediamo se... Leila con... I ciccioli. Il mio profiterol se ha fregato Silvia! Oh ragazzi! Non c'era mica scherzando! Te la dobbiamo! Guarda che non è tua! Sono solo quattro! Ma tu non li puoi mangiare i dolci? Ma io li mangio perché io sono magra! Sei tu che non li puoi mangiare! Ma tu non li puoi mangiare per Yurman! Sì sì vabbè! Yurman non vuole Yurman! Ma... Vi rendete conto? Non è che si sta parlando di una caramellina! Un profiterol! Eh ma Yurman non vuole Yurman! Ho capito! Ti intassa le corde vocali! Sì anche le tue! Fidati! No le mie non hanno bisogno di intassamenti! Anche le tue! Fidati! No giò! E poi stamattina gli ho fatto il tapio rullaglia! Si frega il pranzo degli altri! A dominare le pressioni e lo posso mangiare! Oh! Si frega il pranzo degli altri! Sì ma tanta fatica per niente! Eh... Figurati! Se lo divideranno loro due! Metà e metà! Guarda che fa! Si mangia il suo e mangia pure quello degli altri! Capito? Com'è? Io non questo! E' pure quello di Mario voglio! E' buono eh? Guarda! E' veramente una cosa scandalosa! Ci abbiamo un coltello pulito! No! Perfetto! E poi... Che ti stavo dicendo? Poi... Ah Bologna! Alì ti stavo chiedendo questo! Tu ne avevi mangiate le tigelle! Le tigelle! Buone! Mamma! Mamma mia che sono buone! Le tigelle! Le tigelle! Le gnocco fritto! Con i salumi! Le gnocco fritto! Le aveva mangiato! Da noi si chiama! Dai! A Bologna si chiama torta fritta! A Bologna! Le gnocco fritto! Stai fermo! Stai fermo!